La Russia ha fatto fare 4 attrezze a Canaeva, 3 a Kondakova e 1 a Dimitrieva e la Bielorussia ha fatto fare 4 attrezze a Cercascina, 3 a Stagnuta e 1 a Rabastava che peraltro ha fatto parecchi errori però è riuscita a imparare lo stesso in finale. Mentre vedo la Mitros, certo viene un po' di rammarico perché in questa finale alle clavette io avrei visto bene Giulietta Cantaluppi. Anch'io, anch'io perché veramente l'esercizio di Giulietta ha questo maneggio di attrezzo fuori dal comune, per poco però non ce l'ha fatta quindi è un buon augurio per Montpellier. Quello che tu dicevi, vedi il cambio del costume, lei per questo esercizio giustamente, visto questa musica un po' vacanziera, ha il costumino degli stessi colori del nastro, quindi molto vivace e molto appunto vacanziero e non è vero che non conta niente perché invece questo costume estremamente adatto per il tango precedente o per la musica precedente Quistona, d'altronde credo che non sia neanche passato un minuto, forse un minuto sì ma per quanto sia questi costumi sono molto pesanti, hanno quasi tutti la doppia fodera, quindi mettersi e levarsi per quanto possa essere rapido, non può essere così rapido. E poi è più importante concentrarsi che non cambiarsi un costumino su questo anche. Un estremetto è un esercizio che è passato senza troppi rilievi, però è sempre questa gioia di vivere, lei è pronta per andare in vacanza al mare, nel senso che dà questa idea del, vedete è sempre molto sorridente ma non è solo sorridente col viso, è sorridente nei suoi movimenti perché ha sempre questa gioia di vivere. 27 e 25 aveva ottenuto in qualifica, tu sei sicuro che la Mitros va al mare, ad esempio non predilige la montagna? Non lo so, questa è musica da mare però, non è musica da montagna, non so l'idea. Allora 27 e 0,75 aveva ottenuto alle clavette, vediamo se adesso la Mitros qui riesce un po' a salire con il nastro. Fu molto, molto, molto brava perché anche finire con un'attrezza e immediatamente riprendere la concentrazione per farne un altro e comunque esecutivamente ha fatto un buon lavoro è molto brava.